fino a una settimana fa un bellissimo fagiano maschio passeggiava tranquillo indisturbato nella mia campagna non era molto pauroso e si lasciava avvicinare abbastanza veramente bello con i suoi colori scargianti naturalmente un po di diffidenza nel luogo c'era ma non tanto continuava a beccare tranquillo nonostante la vicinanza mia e della nipotina tea che per la prima volta era estasiata davanti a un animale così bene poi naturalmente stanco dagli sguardi indiscreti mister sfagiano ha spiccato il volo ed è andato a nascondersi in mezzo al mio grado e forse questo è stato l'ultimo suo volo perché non si è più visto qui si stava bene e non può essere andato da un'altra porta sono quasi sicuro che oggi 20 aprile 2014 qualche disgraziato festeggerà la pasqua con un bel fagiano nel piatto mi auguro che un boccone gli vada di traverso buona pasqua a tutti ma non a lui